Ragazzi sono uscite le sfide di Deadpool finalmente, le andiamo a vedere Eh, io sapevo che un certo si sarebbe allagato Deadpool per forza Trova i boxer di Deadpool, allora i boxer di Deadpool si dovrebbero trovare più o meno nella stanza di mida Almeno credo, io spero, ecco infatti nella stanza di mida, ok trova i boxer di Deadpool Perfetto abbiamo fatto la prima sfida quindi complimenti a noi Rendi immagini ai mandroni di Deadpool, allora io so che si trova sulle montagne che adesso andremo a sbloccare Andiamo in game, si dovrebbero trovare qua, qua sopra, mi butto già adesso Si dovrebbero trovare sul doposci Ok ragazzi, non mi ha fatto la stanzata a scendere di così Ma vediamo un attimo quanta gente... ma come no? Ah, eccoli, dicevo io Ok ragazzi, abbiamo fatto la sfida di Deadpool E adesso giochiamo un po', vediamo un po' come Vediamo un po' che sta succedendo qua, chi si sta ammazzando Magari ammazzo io qualcuno, come sai Dai frati, ho salvato la vita, però adesso ti ha ammazzato di lui Ok, perfetto Dammi un cecchino, pezzo del merda Eh È andato come, non capisco Ah, è andato sopra, pezzo del palco, infame Ok ragazzi, questo qua è una partita un po' del merda Quanto è bello, quanto è bello Allora, adesso, madonna Madonna, regà, ma quanto è bello Ok Adesso andiamo a fare una partita con questa splendida skin Senza andare da qualunque altra parte sia Andiamo nei posti in cui, insomma, non va di meglio E andiamo Madonna, regà, ma è bellissimo Pure la luce del sole Cioè, sembra che gli hanno cagato addosso del pangolo, lo so Però è bellissimo Adesso andiamo qua dentro Andiamo un po' che mi si trova qua Vabbè Preferisco un tattico a caso Però Lasciamo stare In questa casa non c'è assolutamente niente Quindi ciao caro Ho chiamato il tattico e mi è arrivato il uomo così in mano Cioè, c'è senso Magari si è ammazzato Eh no Eh no Magari mori Magari esplodi male Oh sì, che bello Niente Così va Ok ragazzi, questo video su come ottenere la skin della X-Force di Deadpool è terminato Lasciate un mi piace per i miei capelli rossi di merda Perché mi sono appunto svegliato un'ora fa Noi ci ribelliamo a un prossimo video sempre su Fortnite Se volete altri giochi basta che me lo dite nei commenti Tanto ne ho una marea Tanta gaccia fa in Dasta 40 Quindi noi ci ribelliamo a un prossimo video Bella ragazzi